Dopo aver superato tutte le prove del concorso 2020, come vi siete sentiti nell'apprendere che non sareste stati immediatamente assunti in ruolo nonostante i posti vacanti? Dopo aver fatto tutte le prove del concorso ordinario, scoprire che poi fanno altri concorsi che ti sorpassano, è veramente avvilente questa cosa perché uno lavora, studia, porta avanti oltre al lavoro una famiglia, bambini eccetera eccetera, deve ritagliarsi ancora tempo per studiare per quanto mi riguarda per esempio la notte, io studio la notte per prepararmi a concorsi per superare me stessa nel concorso precedente, veramente la parola che mi viene in mente è proprio avvilente questa cosa.